Salve carissimi amici tutubi, sono Francesco e bentornati nella soffita di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi parliamo di Batman numero 5, facente parte del rilancio universo DC rinascita, siamo arrivati al quinto numero, 3 euro e 50, è una serie quindicinale, quindi è il primo albo di marzo e sì, ne sto parlando di ritardo, ma come sapete mi è arrivato effettivamente con una settimana abbondante di ritardo, ma in questo momento per me basta che arrivino fondamentalmente, sperando che si risolvano effettivamente questi ritardi o che almeno diventino stabili di una settimana, così lo so e me ne faccio una ragione. Detto questo, all'interno tre storie, Batman, Detective Comics e Nightwing, dal punto di vista tipografico nulla da ridire, quest'album mi sembra stampato bene, segnalo solo una carta che risulta essere molto più sottile rispetto agli numeri precedenti, tant'è che attraverso i balloon è possibile vedere le immagini e i balloon immediatamente dietro e non in controluce, che se è in controluce ancora ancora lo posso capire, ma effettivamente già così io mi vedo il disegno che c'è dopo e non è proprio il massimo. Detto questo, come sapete vado in ordine di gradimento, quindi partirò dalla storia che mi è piaciuta di meno andando a quella che mi è piaciuta di più, ma tutte e tre le storie in questo caso sono di alto livello, sempre molto interessanti e sempre sul pezzo, quindi un albo che già vi posso dire è assolutamente consigliato. Partiamo dalla terza posizione, la storia che mi è piaciuta di meno tra queste tre è Nightwing, di Tim Sealy per i disegni di Javert Fernandez. Niente da dire sul punto di vista grafico, che ok è molto semplice, minimale, ma comunque gradevole, per quanto riguarda la storia, come dicevo è forse la meno interessante, è una storia di transizione che porterà poi al prossimo albo alla conclusione di questa migliore di Batman, riferito al personaggio di Rapace, ma che in realtà sospetto volersi riferire a Nightwing stesso, staremo a vedere, e cosa c'è da dire? In questo albo qui abbiamo anche la compartecipazione di Batgirl, ancora di più si vuole fare uno spot sul fatto che, ehi, esiste una serie su di lei, acquistatela, e va bene, appena arriva Batman Cavigliere Oscuro ve ne parlerò più nel dettaglio, ma per quanto riguarda questo albo qui abbiamo un inizio, che avete visto l'immagine qui da mia destra, avremo Batgirl, Rapace e Nightwing davanti a un corpo di una persona che Rapace apparentemente ha appena ucciso, e Batgirl che dirà a Nightwing, Nightwing ma come? Gli hai permesso di ucciderlo? Con questo Flash for War comincia la storia, che vedrà questi tre protagonisti affrontare un labirinto per conto del Parlamento di Goofy, Batgirl in realtà vuole un attimo capire che cosa sta succedendo a Nightwing in questo periodo, visto che lei lo chiama, lui non risponde, e cercando di capirlo affronteremo un pochettino di più, capiremo ancora meglio chi è Rapace, che cosa vuole, che cosa sta facendo, e Nightwing ha un piano preciso perché sono stati mandati a uccidere e fermare colui che ha ideato il labirinto del Parlamento di Goofy, e quindi vuole avere i piani, la mappa, la cartina di questo labirinto, per poter arrivare al nucleo del Parlamento di Goofy e fermarli una volta per tutti, almeno questo è quello che ci viene raccontato nelle prime pagine di questo albo, di questa storia. La storia in realtà procede in maniera molto semplice, con i nostri tre che devono affrontare a loro volta un labirinto, e che le capacità di ognuno servirà, effettivamente, li aiuterà a risolvere questo labirinto, ma a parte questo è un albo di pura transizione, che vede un attimino di più mescolarsi i rapporti tra i personaggi, e che va a confermare quelle che erano le mie sensazioni nei due albi precedenti per quanto riguarda Rapace. Vedremo se effettivamente Team Sealy sta giocando su una falsa pista per il lettore o meno, e che se quindi ci sarà un colpo di scena di un certo impatto, oppure se invece le cose stanno come apparivano fin dall'inizio, il che sarebbe un pochettino deludente. Proseguendo, la seconda storia per indici di gradimento all'interno di questo albo è Batman, di Tom King per i disegni di David Finch. Dal punto di vista grafico abbiamo David Finch, forse un pochettino appesantito dalla velocità con cui ho dovuto fare questi primi albi, ma comunque sempre di ottimo livello. Per i prossimi numeri avremo la conclusione di questo I am Gotham, che sarà disegnato da un altro disegnatore, poi avremo un crossover con Detective Comics e Nightwing, poi avremo lo story arc di Michael Janine, quindi David Finch avrà per un po' tempo per riposarsi e poi prepararsi per lo story arc successivo. In questo albo qui abbiamo ancora lui disegni, come dicevo, e abbiamo la battaglia tra i due protagonisti che abbiamo visto in copertina. Da un lato avremo infatti Gotham, gonfio tronfio dei suoi poteri e del tutto impazzito a causa dell'intervento di Hugo Strange e dello psicopirata, e Batman che dovrà trovare il modo di fermare questo essere, utilizzando tutte le risorse a sua disposizione. La storia vive, secondo me, di alcuni momenti molto interessanti, l'avete visto qui alla mia destra, per questo punto ci sarà Alfred che farà un monologo e indosserà il costume di Batman per affrontare Gotham mentre Batman arriva, e poi avremo tutta un'altra serie di eventi che non sto a dirvi nello specifico. Ci sono determinati momenti che aumentano proprio l'hype, ma la narrazione in sé per sé risulta ostica, non è lineare come si vorrebbe. La conclusione poi è un cliffhanger vero e proprio, con un personaggio che sta pensando a questi eventi in un futuro piuttosto lontano, seguendo un attimino gli spoiler americani, vi posso dire che è parecchio lontano perché di quello che viene detto qui ancora non se ne parla, con un cliffhanger che ti fa rimanere in sospeso, vuoi sapere come prosegue, e quindi ti fa mettere decisamente hype. Ma al di là di questo, questa narrazione così frammentaria, non proprio omogenea, con diversi momenti interessanti, ma che sono attaccati un pochettino male, avrei preferito, ecco, questo episodio splittato in due, in modo da renderlo più liscio e più lineare. Sarebbe stato, secondo me, un'ottima conclusione per questo story arc. Con tutta la battaglia che ci sta sullo sfondo, giostrata decisamente in maniera più organizzata e migliore di come non è stato fatto all'interno di questo albo. Il che non vuol dire che sia brutta, ma sono quei momenti inframmezzati da altri, che ti fa dire, si potrebbe fare di meglio. E invece, al primo posto, Detective Comics, giunto al numero 938, firmato sempre da James Tino IV per i disegni di Martinez, e c'è poco da fare. La squadra si ricompone, i comprimari della testata riusciranno a trovare Batman, incastrato, precatturato dall'esercito in precedenza, e i nostri dovranno trovare il modo di fuggire, perché effettivamente dovranno prima prendere Batman e poi fuggire. Una storia d'azione che ancora di più entra nel piano degli avversari, ci fa capire ancora meglio le motivazioni che stanno dietro a questi avversari, e sono motivazioni serie, sono motivazioni importanti, che porteranno sicuramente a degli story arc pregni e densi, che spero James Tino IV riuscirà a mantenere allo stesso livello di interesse di questa storia qui. Nonostante ci siano sì quei momenti un pochettino più... Forse, ecco, i momenti belli di Batman sono più belli dei momenti più belli di Detective Comics, tuttavia la narrazione è decisamente più fluida, più organica, più... fluida, che secondo me giova tanto, e non ti fa dire però si poteva fare di meglio, cosa che invece Batman aveva fatto. In conclusione siamo davanti a un numero che a me è piaciuto tanto, un Nightwing a parte, soprattutto per quella conclusione, e un Batman che finalmente mette l'acceleratore, comincia a ingranare e parte. Vediamo come proseguirà, sperando che il crossover non debiliti troppo la serie, e un Detective Comics che apparentemente è inarrestabile, è una gran bella serie, che mi sento di consigliare un pochettino a tutti i fan del personaggio di Batman. Detto questo, noi ci vediamo ad una nuova video opinione del canale. Ciao!